Ben trovati con il TGLIS di Telebari. La data è fissata giovedì 8 febbraio. L'ordine del giorno per l'Assemblea del Partito Democratico è abbastanza chiaro, nomina del tesoriere, ma soprattutto elezioni amministrative 2024. Il centro-sinistra è sempre più vicino a trovare la soluzione per la scelta del candidato sindaco che proverà a raccogliere l'eredità di Antonio De Caro. Tutte le strade portano al nome di Vito Leccese che da giorni è sempre più indaffarato in incontri, ma per chiudere i conti bisognerà sottoporre la scelta al tavolo di coalizione che presumibilmente dovrebbe riunirsi il prossimo 9 o 10 febbraio, subito dopo l'Assemblea. Tutto questo dando per scontato che l'Assemblea riesca a decidere per un unico nome. Dopo il passo indietro di Marco Lacarra, Pietro Petruzzelli resta fermo sulla posizione, mentre non è ancora chiaro cosa farà Paola Romano. Se il nome scelto sarà quello di Leccese, lo step successivo sarà il passo indietro di Michele Laforgia, tutt'altro che scontato. Dall'altra parte invece il centro-destra è sempre più vicino a chiudere sul consigliere regionale Fabio Romito. Il consigliere regionale della Lega ha da tempo già dato la sua disponibilità e a giorni dovrebbe arrivare l'annuncio. Da un rimborso di 500 euro come premio asilo e scolastico al premio sanità di 200 euro per analisi ed esami specialistici, ma anche premi natalità o misure per i familiari disabili a carico. L'ente bilaterale del turismo, l'organismo che comprende organizzazioni datoriali e sindacati nel settore, presenta una serie di azioni di sostegno al reddito per i lavoratori del comparto. Misure possibili grazie al fondo da 2 milioni, 400 mila euro costituito in questi anni e che per il 2024 conta 500 mila euro. Le domande, inoltrate attraverso la piattaforma web EBT Puglia, vengono accolte in ordine cronologico sino all'esaurimento delle risorse. L'occasione è stata utile anche al presidente dell'ente, Francesco Caizzi, per sottolineare il disagio di un settore che vive la piaga dell'abusivismo, una situazione che nasconde una fetta molto ampia di lavoro irregolare e che danneggia le aziende virtuose, soprattutto nei periodi di bassa stagione. E adesso le altre notizie del TG List. La Procura di Bari ha chiesto il rinvio a giudizio per otto ex top manager della Banca Popolare di Bari, tra cui l'ex presidente Marco Iacobini e l'ex vice direttore generale Gianluca Iacobini per i reati di falso in bilancio relativamente agli anni 2016-2018, ostacolo alla vigilanza di Consob e Banca Italia, agiotaggio bancario a danno degli azionisti, oltre alle accuse di maltrattamenti, estorsione e lesioni personali ai danni di un ex manager dell'istituto. Ci sono due sospettati, due ragazzi appena maggiorenni per la sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsi al quartiere Libertà di Bari in via Indipendenza e nella quale solo per un caso nessuno è rimasto ferito. Nell'abitazione risiedono un'anziana a 75enne e il suo figlio con disabilità. La donna durante la notte non ha dato valore ai rumori che aveva sentito, scambiando gli spari per mortaretti, e invece i colpi di pistola erano stati diretti contro la sua abitazione al piano terra, finendo persino per infrangere la vetrata e conficcandosi poi in un mobile della cucina. Le indagini sono affidate alla squadra mobile di Bari. La cartella clinica elettronica e il trasferimento digitale delle informazioni tra ospedali possono salvare la vita con un semplice clic. È accaduto a Bari quando gli specialisti della chirurgia vascolare dell'ospedale di Venere, allertati per una emergenza dai colleghi del pronto soccorso di Altamura, hanno potuto verificare la gravità delle condizioni del paziente mediante la trasmissione digitale delle immagini della TAC, mentre il paziente era ancora in ambulanza per il trasferimento. Inoltre hanno potuto studiare rapidamente il caso prima del suo arrivo, preparare la sala operatoria e la protesi adeguata per intervenire con successo su un aneurisma rotto della orta addominale. Il Consiglio regionale pugliese ha approvato all'unanimità una proposta di legge con cui si dispone l'istituzione in ogni provincia colpita dalla Xilella di un centro regionale di raccolta e di lavorazione del legno pregiato. Si tratta di centri all'interno dei quali dovrà essere conferito e lavorato il legno per favorire la creazione di laboratori artistici e artigianali, la realizzazione di prodotti dall'alta fattura artigianale e la commercializzazione del legname. Alvia la quattordicesima edizione del premio Mimmo Bucci, Festival Nazionale della Musica Emergente. L'iniziativa, nata per ricordare Mimmo, il leader del gruppo La Combricola di Vasco, travolto e ucciso da una moto pirata sul lungomare di Bari la notte del 15 maggio 2007, intende dar voce a giovani musicisti e allo stesso tempo offrire loro un'occasione per emergere nel panorama musicale. La serata conclusiva del festival si terrà sabato 3 febbraio alle 20 al Teatro Petruzzelli di Bari. E adesso le notizie dall'area metropolitana e dalla regione. Avrà inizio il 2 febbraio l'ispezione dei commissari di ILVA in amministrazione straordinaria nello stabilimento di Taranto di Acciaierie d'Italia. Nei giorni scorsi il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha sollecitato un intervento di Invitalia e dai commissari di ILVA al fine di garantire la continuità produttiva. La procura di Brindisi ha chiesto il rinvio a giudizio per Angelo Bellanova, il 57enne di Ceglie Messapica, accusato dell'occultamento del cadavere della madre. L'82enne Maria Prudenzia Bellanova, il cui corpo fu ritrovato all'interno di una cella a frigo e nella sua villetta il 22 novembre del 2022. L'uomo avrebbe continuato anche a riscuotere la pensione della mamma e l'indenità di accompagnamento per poco più di 11.000 euro. Un paziente disabile ricoverato nel reparto di nefrologia del Policlinico Riuniti di Foggia è stato derubato del borsello contenente documenti e soldi mentre si era allontanato dalla sua stanza per una visita medica. L'accaduto ha destato rabbia e preoccupazione nei familiari che hanno presentato denuncia di furto ai carabinieri. Un operaio salentino è stato arrestato dai carabinieri di Casarano in provincia di Lecce in flagranza di reato poiché è ritenuto presunto responsabile di detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In casa custodiva oltre due chili di marijuana, materiale per il confezionamento della droga e un bilancino di precisione. Parte della sostanza è stata trovata in contenitori di plastica, altra in vasetti di vetro che l'uomo teneva nascosti nel garage. E per questa edizione del TG List è tutto, grazie per averci seguito, buon proseguimento.